Nel video di oggi andremo ad analizzare la partita del quinto turno del torneo di Budapest, giocavo contro il maestro fido olandese Raz Mamidas con un punteggelo di 2235 e questa è una partita molto interessante per tutti quei giocatori che giocano la difesa siciliana perché andremo a rientrare in una struttura pedonale tipica in cui c'è veramente tanto da imparare. Io giocavo con il nero, gioco appunto una difesa siciliana e in particolare il dragon accelerato, qua lui va per la variante principale con cavallo c3 e poi alfiere c4, a questo punto dopo arrocco corto il nero sta minacciando cavallo per e4 seguita da pedone d5 quindi una mossa come arrocco corto sarebbe già un errore proprio per via di cavallo per e4 e qua se il bianco cerca di recuperare il pedone entra in questa posizione dove il nero ha la coppia degli alfieri, la posizione è completamente aperta questo alfiere è un cecchino contro b2 e ho queste colonne per le torri, quindi svilupperò l'alfiere in f5, farò pressione anche su c2 con alfiere donna e torre, questa è una posizione veramente ingiocabile per il bianco quindi dopo arrocco corto il bianco deve assolutamente giocare alfiere b3 per togliere l'alfiere da questo tatticismo, d5 non sarebbe più una forchetta a questo punto per evitare la preparazione del mio avversario ho deciso di optare per questa linea minore con donna a5, la donna sta inchiodando il cavallo in c3, sta arrivando cavallo per e4 e qua il bianco ha due tipi di approccio f3 seguita la donna d2 è arrocco lungo oppure arrocco corto immediatamente, donna d2 subito non si può giocare per via di cavallo g4, la donna non difende più questa casella e l'alfiere in e3 ha dei problemi, tra l'altro l'alfiere non può spostarsi perché c'è pressione su d4 e se il nero in queste posizioni di dragone, dragone accelerato riesce ad eliminare l'alfiere camposcuro del bianco che è l'alfiere necessario al bianco per sfianchettare l'alfiere in g7 sostanzialmente non prenderà più matto per tutta la partita e oltretutto il nero ottiene il vantaggio della coppia degli alfieri, in particolare questo alfiere camposcuro su questa diagonale diventa veramente invincibile qua il mio avversario ha optato per l'arrocco corto però in generale quando noi giochiamo la siciliana e in particolare la variante del dragone e del dragone accelerato le linee che ci possono infastidire di più sono quelle dove il bianco arrocca lungo e poi in un qualche modo cerca di lanciarci un attacco pedonale cerca di aprire la colonna h dove si trova una torre in h1 e poi in un qualche modo sfianchettandoci la donna può salire l'attacco difesa dalla torre e ci sono idee di matto e queste sono le linee che danno più fastidio al nero quindi anche se arrocco corto del bianco è completamente giocabile e va benissimo il nero dovrebbe già essere abbastanza soddisfatto di quello che ha ottenuto adesso gioco semplicemente pedone d6 il mio avversario gioca h3 questa è una mossa utile per evitare sempre mosse come cavallo g4 da notare che ora d6 minaccia proprio questa avanzata di cavallo perché l'alfiere ora ci difende e stiamo attaccando l'alfiere in e3 quindi ci sono due opzioni per togliere la casa in g4 h3 oppure f3 però h3 all'intento poi magari di spingere il pedone direttamente in f4 e qua la variante principale è alfiere d7 probabilmente anche la mossa migliore io in partita ho deciso di giocare cavallo per d4 perché avevo l'idea di rimuovere il difensore di b5 per poi spingere il mio pedone e guadagnare spazio sul lato di donna questo può essere anche un buon piano ma in questo momento non va bene perché qua il mio avversario può giocare cavallo d5 dunque questa è una mossa veramente molto forte non posso catturare in e4 perché perderei il pedone in e7 che è più importante e dopo tutti gli scambi il problema è che il mio avversario va a catturare in d5 di pedone molto importante e questa è una struttura pedonale in cui il nero si ritrova con la debolezza in e7 ed è un pedone debole posto su colonna aperta quindi il mio avversario molto spesso riuscirà a triplicare i suoi pezzi pesanti per attaccare e7 e in genere in queste posizioni il nero ha quantomeno un ottimo cavallo in c5 su casa scura che può compensare un minimo la debolezza in e7 ma in questa posizione noi ci ritroviamo con l'alfiere in c8 che non trova veramente una buona collocazione l'alfiere f5 potrebbe essere l'unica casa attiva per questo alfiere ma come vedremo il bianco può semplicemente giocare c3 e ancora una volta questo alfiere non fa nulla di particolare e anzi può diventare in futuro un target d'attacco perché il nero oltre al pedone debole in e7 ha anche un altro problema il re in g7 è rimasto sguarnito di difese molto spesso il bianco può attivare la donna in d4 e un'idea con h4 h5 può essere devastante sia con l'idea di spingere in h6 e dare matto con la donna in g7 sia con l'idea di mantenere la tensione magari giocare a re g2 catturare in g6 e portare in gioco anche la torre sulla colonna h quindi il re in g7 potrebbe avere dei problemi la partita è proseguita con alfiere f5 il mio avversario gioca a torre 1 va ad attaccare il pedonino e7 che io devo difendere e a questo punto donna d4 scacco il mio re torna in g8 torre 3 e come vedete il mio avversario è già pronto ad addoppiare le torri sulla colonna e a questo punto bisogna trovare un piano con il nero il bianco nelle prossime 5-6 mosse avrà mosse veramente facili da giocare e noi non sappiamo bene come comportarci perché sicuramente il nostro gioco se esiste è sul lato di donna sicuramente non è sul lato di re e quindi l'unica idea che a me è venuta in mente è giocare donna c7 che magari torna utile per difendere il pedone e a volte può aiutare nella pressione su c2 e magari libera il pedone a però allo stesso tempo il mio avversario gioca semplicemente torre e1 e intanto non posso catturare in c2 per via di torre c3 e andrai a perdere l'alfiere e se dovessi giocare a5 cercando di espandermi sul lato di donna il mio avversario potrebbe giocare semplicemente a4 e qui tutte le reazioni non mi portano da nessuna parte se catturo dopo alfiere per a4 questo alfiere spesso può piantarsi in c6 o comunque attacca la torre in e8 e dopo problemi su e7 e se dovessi spingere questi pedoni rimangono bloccati non riesco a fare ulteriori progressi e un altro problema è che qua il bianco può giocare alfiere c4 trasferendo l'alfiere in b5 e io inizio ad avere enormi difficoltà a difendere il pedone in e7 non posso nemmeno catturare in c2 perché dopo alfiere b5 la torre sotto attacco deve spostarsi cade e7 e ho posizione completamente persa quindi qui dopo torre 1 cerco di giocare invece con pedone a6 che però chiaramente mi lascia senza gioco magari voglio giocare torre a7 per aumentare la difesa su e7 ma qua è come giocare a porta romana il bianco attacca io mi difendo e spero in un qualche modo di salvarmi gioco torre a7 rinforzo la difesa su e7 e qua il mio avversario gioco una manovra molto forte cerca di portare la donna in h6 e poi arriva h4 h5 g4 è sempre nell'aria e qua è veramente difficile difendersi con il nero io gioco pedone f6 il mio avversario continua con donna h6 adesso anche l'alfiere una volta che il pedone viene spinto in g4 può prendere parte all'attacco e ci sono già idee di sacrifici e qui cerco di giocare torre f8 per portare la torre in f7 difendere 7 e difendere anche la settima traversa così su un'eventuale cattura magari sono già pronto ad oppormi con la torre però chiaro che qua la posizione è veramente orribile e qui il mio avversario opta per torre per e7 che sinceramente reputavo un errore perché il bianco ha un attacco sostanzialmente gratuito io non posso muovermi e giocare una posizione dove io ho le due torri contro la donna potrebbe concedermi qualche chance di salvezza ed esistono anche scenari in cui io riesco ad attivare le torri e poi addirittura il bianco finisce per perdere quindi qua il bianco deve essere molto preciso lo è gioca donna f4 attaccando il pedone in d6 e qua la mossa naturale ovvero torre e5 non va bene perché il bianco gioca donna b4 attacca d6 da questa diagonale ora posso difendere questo pedone solamente con torre d8 ma arriva donna a5 attaccando la torre e attaccando il pedone e se vado a difendere il pedonino a6 arriva donna b6 e adesso non riesco più a difendere il pedone d e chiaramente una volta che cade questo pedone questo è un ottimo pedone passato l'alfiere entra in gioco e anche il mio re inizia ad avere un po' di problemi quindi non ho giocato torre e5 e anche difendere il pedone con torre d8 non funziona perché può fare donna d4 attacca f6 e quando vado a difenderlo la donna si infiltra nuovamente in b6 attacca la torre mantiene un occhio su d6 attacca il pedone e ancora una volta non c'è niente da fare quindi come bisogna reagire a donna f4 e qua ho trovato una mossa veramente fortissima che lui aveva mancato e sono molto fiero di questa a5 lasciando il pedone in d6 in presa e l'idea è che se il bianco va a catturarlo arriva torre 1 scacco re h2 e dopo pedone a4 magicamente l'alfiere in b3 si ritrova in trappolo ovviamente il mio avversario non ha giocato donna per d6 ha giocato invece pedone g4 contraattaccando l'alfiere in f5 e qua gioco alfiere b1 con l'idea sempre di proseguire con a4 e intrappolare questo alfiere perché su alfiere d1 arriverebbe lo scacco e poi andrei a catturare l'alfiere il motore è veramente un animale e qua suggerisce torre 1 scacco re g2 alfiere e4 pedone f3 e io questa variante l'avevo scartata perché dopo pedone f3 non mi era chiaro cosa avevo ottenuto ma secondo il computer qua torre 8 riesce a pareggiare il gioco perché quando il bianco va a catturare l'alfiere in e4 vado a mangiare queste due torri attive sulla colonna e mi garantiscono un perpetuo dopo donna per f6 devo giocare torre 1 in e2 scacco se il re del bianco torna su gioco torre 1 scacco e poi torno di nuovo in e2 quindi il bianco se vuole cercare di vincere deve salire ed era molto importante mantenere la torre sulla quarta traversa perché ora posso giocare torre e3 scacco e quando lui gioca re h4 ho la fortissima torre e5 ed è molto importante avere questa torre sulla quinta traversa e questa sulla terza perché quella sulla terza impedisce al re del bianco di tornare indietro e quella sulla quinta sostiene la spinta in g5 se il bianco inizia a darmi scacchi ok ripetiamo le mosse perpetuo se invece cerca di giocare magari difendendo il pedone in h3 così su g5 può giocare re h5 qua è molto importante giocare torre 1 disturbando di nuovo la donna il bianco può anche mangiare in b5 ma io torno in e3 e ancora una volta la minaccia di g5 poi torre per h3 è troppo forte il bianco deve accontentarsi del pareggio quindi qui semplicemente ripetiamo le mosse io non ho calcolato tutto ciò piccola parentesi qui e dopo donna c7 scacco non possiamo giocare re h6 perché addirittura andiamo a perdere dopo donna per d6 e il pedone g è inchiodato però ok senza giocare re h6 ripetiamo le mosse e la partita finisce in pareggio io in partita però ho giocato alfiere b1 che mi sembrava comunque molto forte perché arriva pedone a4 e su pedone a4 del mio avversario che è la mossa che è stata giocata credevo di aver vinto dopo torre 4 attacco la donna vado a minacciare il pedone in a4 che andrebbe di nuovo ad intrappolare l'alfiere e qua mi aspettavo donna c1 contraattaccando l'alfiere in b1 su cui però avrei giocato torre 8 minacciando di entrare sulla prima con la torre guadagnando la donna e qua dopo ad esempio re g2 posso giocare torre 1 la donna deve spostarsi alfiere 4 scacco e dopo pedone f3 posso giocare alfiere c2 e ho pensato geniale bellissima perché oltre ad attaccare l'alfiere minaccio torre scacco re g3 torre scacco re h4 g5 forchetta quindi qui ottengo una posizione vinta e anche il motore è d'accordo cioè alfiere per c2 torre scacco torre qua g5 vinco la partita e donna c1 mi sembrava l'unica mossa sensata dato che sto minacciando la donna e b per a4 intrappolando l'alfiere il mio avversario però qua gioca donna per d6 e dopo b per a4 l'alfiere sembra intrappola perché se dovesse scappare in d1 arriva torre scacco e lo vado subito a guadagnare ma qua c'è la fortissima pedone f3 e la mia torre deve spostarsi tra l'altro se gioco torre scacco re attacca la mia torre quindi questo alfiere fa in tempo a salvarsi ad esempio torre 1 scacco re f2 torre e8 che magari minaccio comunque di entrare in seconda traversa creando minacce sul re ma l'alfiere non sta neanche a catturare in a4 va in c4 da cui copre entrambe queste case non riesco più a trovare contro gioco questi pedoni non vanno da nessuna parte e il bianco ha un pedone passato una volta che questo pedone si attiva anche l'alfiere entra in gioco sul mio re quindi torre 1 scacco non funziona in partito giocato torre 2 cercando di attaccare il pedone in b2 il mio avversario gioca alfiere c4 andava bene anche alfiere a4 ma l'idea del mio avversario era mantenere l'alfiere su questa diagonale e allo stesso tempo dare un occhio a queste case io ho continuato con torre per b2 il mio avversario però ha giocato donna a3 e ha mobilitato il pedone di passato quindi la morale della favola è che dopo pedone a5 e g4 alfiere b1 che sembrava geniale perde mentre torre 1 scacco e quella linea folle che abbiamo visto sacrificando l'alfiere è l'unico modo di pareggiare nella posizione io non ho ovviamente visto questa linea e oltretutto alfiere b1 mi sembrava addirittura vincente quindi qua dopo insomma pedone di 6 siamo entrati in questa posizione che non avevo totalmente previsto e qua dopo reggi 7 il mio avversario ha concretizzato molto bene pedone f4 ho cercato magari di creare questo pedone passato e trovare un po' di controgioco però lui mi entra in e7 con la donna re h8 l'alfiere va in b5 da notare che non posso catturarlo perché cade la torre in f8 e poi il bianco addirittura promuove e qui secondo me è molto istruttivo vedere come il bianco va a convertire il vantaggio perché il bianco si ritrova con ben due pedoni passati senza il pedone c magari con torre d8 potrei opporre un po' di resistenza in più ma chiaramente l'esistenza di questo pedone fa sì che una volta che il pedone arriva in c7 il nero perde la partita allo stesso tempo però questo è un pedone passato che potrebbe infastidire il bianco adesso la donna controlla a3 ma quando il pedone arriva in c5 interferisce con questa diagonale e il pedone può avanzare chiaramente il bianco andrebbe ad ottenere una posizione vinta lo stesso però il nero potrebbe ottenere un po' di controgioco quindi qui per andare ad eliminare ogni forma di controgioco il bianco porterà il re sul lato di donna tanto io non posso fare assolutamente nulla qua lui gioca a pedone c4 il pedone può avanzare tranquillamente fino a c4 perché la donna continua a difendere la spinta in a3 e il re del bianco è diretto in c3 quindi qui io veramente devo stare fermo non posso fare nulla cerco disperatamente un qualche controgioco che però è inesistente con h5 lui mi ignora giustamente dopo pedone f5 va a bloccare completamente la mia struttura pedonale e adesso è solo questione di portare il re in c3 iniziare a spingere il pedone c e la partita finisce qua ok ha ripetuto un attimino le mosse probabilmente per guadagnare un po' di tempo visto che entrambi ne avevamo poco però qua arriva c5 l'alfiere non può ancora essere catturato per via di donna per f8 e non c'è veramente niente da fare qua ho cercato di difendere l'attore per poi mangiare in b5 però chiaramente dopo torre per b5 arriva c7 i pedoni stanno andando a donna minaccia anche donna per f8 e poi promozione quindi qui ho deciso di abbandonare e facendo un resoconto della partita a parte quel piccolo frangente in cui avevo quella combinazione invisibile per pareggiare il mio avversario è stato veramente fortissimo e tutto nasce da questa struttura pedonale dove tra l'altro io mi ritrovo con un alfiere in c8 completamente inutile al posto di un cavallo in c5 che sicuramente mi concederebbe un po' di gioco in più e7 è debole il mio re è debole quindi abbiamo visto come il bianco può concretizzare il suo vantaggio in questo tipo di posizioni io vi ricordo di lasciare un like in descrizione è presente il link che porta alla playlist con le analisi anche delle partite precedenti e noi ci vediamo al prossimo video